All'interno di iCAD posso creare più varianti colore, non c'è un numero limitato, quindi posso creare anche 100-200 varianti colori e sono passaggi molto semplici. Per quanto riguarda i materiali, iCAD fornisce sempre una libreria di materiali standard, ma noi possiamo andarci a creare tutte le cartelle con tutti i materiali che noi possiamo creare all'interno del software, se si parla comunque di materiali molto semplici come il verniciato, oppure possiamo importare per esempio un materiale scannerizzato. C'è la possibilità di andare a prendere il colore da un'immagine per esempio che ho nel desktop, quindi posso prendere e rilevare il colore da qualsiasi immagine, oppure ho anche la tavolozza dei pantoni.